E salve a tutti let's player il mio nome è Unfergamer85 e oggi siamo in questo nuovo vlog Allora ragazzi devo parlare di un argomento molto importante Riguardante il canale Che veramente per me è molto importante perchè non vorrei che qualcuno di voi ci manga male E riguarda Fallout Shelter ragazzi Fallout Shelter ho deciso di praticamente di abbandonarlo Ma perchè ho deciso di abbandonarlo? Perchè purtroppo mi sono reso conto che praticamente non faccio schifo Non riesco a giocarci Come potete vedere a momenti nell'ultimo episodio la popolazione mi moriva Quindi veramente ho già caricato il quarto episodio non che ultimo Ma non mi resta che farvi questo vlog per dirvi che il gioco lo chiudo qui Magari non lo so farò uscire un'altra serie in sostituzione di Fallout Non lo so neanche io quello che farò Per adesso vi dico io sono con le mani legate Perchè non so veramente che portarvi Non so Qualche mezza idea Una mezza idea io ce l'avevo Ce l'avevo ragazzi Non vi dico niente Ce l'avevo Però Non sono sicuro Non sono sicuro di quello che sto dicendo Però può essere che un gioco in sostituzione ce l'ho già pronto in archivio Che l'ho già installato sul pc L'importante è che mi metta a registrare quanto prima E lo provi E provi a registrarlo Perchè già vi dico solamente Ieri l'avevo già registrato Però diciamo Comunque io non ho potuto caricarlo Perchè avevo Per sbaglio spuntato La La registrazione del sistema dell'audio E perciò sentiva solo la mia voce E non l'audio del gioco E quindi Era un mezzo casino come gameplay E quindi allora Cosa ho deciso di fare E Rifarò il gioco Rifarò E' un gioco che E' uscito anche da poco su Steam Però viene sulle 20 euro E' fatto dalla Capcom Non vi dico altro Io comunque ragazzi L'ho preso da Steam Perchè veramente Purtroppo io Soldi per i giochi In digitale Non ne ho Purtroppo I soldi per i giochi Io compro più che altro Solamente io Dal PSN Io sono uno che Preferisce giocare sul PSN Preferisce Non sul coso Non su PC Sono Io sono un giocatore di casa Sony Sono un fanboy Ditemi quello che volete Però comunque Se c'è qualche titolo allettante Poi per il mio canale Lo porto per carità Questo non lo metto in dubbio Lo porto Non ci sta tutto Che io porti anche un gioco Più vecchio di me E' il gioco che Andrò a fare Vi dico solo che è della Disney Vi dico solo questo Fatto insieme alla Capcom Non si tratta di DuckTales Ragazzi L'Animastered Che ho già fatto un gameplay Su quel gioco E ho lasciato stare Si tratterà di un altro gioco Ragazzi Per carità Si tratterà di un altro E direi che Penso Tra poco Finito questo vlog Io mi metterò a registrarlo E poi vedrò cosa caricherò Sul canale E niente ragazzi Io direi che Anche per questo video E' tutto Perché comunque Vi ho detto Le informazioni base Io penso ragazzi Fra un po' Non credo subito Ma fra un po' Dovrei anche far uscire Un altro video collezione Vi ricordate Più o meno Un annetto fa Feci la Videocollezione Dei miei giochi Della Playstation 1 Bene Non vi dico Che lo farò subito Ma Prossimamente Diciamo Quando sarà Più in là Farò la seconda parte Farò di quella collezione Perché Ho recuperato Altri titoli Ho recuperato Veramente Molto molto belli E che Penso L'avrete già visto Comunque Diciamo Come spunto Nel video Della mia camera Avrete visto Ma Vabbè Questo Ma non penso Li abbiate visti Bene Comunque Tanto ne devo ancora Recuperare altri Quando sarà Che li vedrete Li vedremo Insieme Li vedremo Vi li recensirò Uno per uno Vi li recensirò E Devo dire la verità C'è anche qualche Piccola chicca Fra Quelli Fra quei Giochi E niente ragazzi Io vi saluto E ci vediamo Alla prossima